Ecco oggi ci troviamo in un luogo idilliaco, mille metri sopra il mare e precisamente ai monti di Tesserete, circa 3-400 metri sotto il nucleo di Condra. Abbiamo l'intenzione di sottoporre ad una cottura speciale queste sculture qui che si intitolano uguale nella diversità e questa cottura speciale è paragonabile alla tecnica Raku. La tecnica Raku significa riduzione ovvero sottrazione dell'ossigeno che fa sì che cambino colore. C'è chi usa degli smalti mentre in questo caso abbiamo il colore naturale della creta che con la sottrazione dell'ossigeno o la fumigatura come si chiama anche, diventeranno nere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.